Non fare domande Questo video non è per tutti È un video lunghissimo Sicuramente non è per l'utente medio di Youtube Più da appunto ragazzo che sta su Twitch Secondo me è molto bello C'è l'essenza del team E l'essenza del competitivo Un torneo con molte premi di 350€ Che ci ha fatto dare Sangue e sudore Voi direte Paolo ma sono cifre ridicole per te Le fai in un giorno E io Anche in me Comunque spero che il video vi piaccia Se vi va lasciate un mi piace Condividetelo Un abbraccio e buona giornata Ah e smettete di dire che le mie intro sono cringe Perché posso sempre fare peggio Siamo in live eh Siamo in live Cioè siamo a ritardo Ma siamo in diretta Sì 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 Se volevi dire qualcosa di bannabile No 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 Parli di bambini che odi Ma 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 Ci siamo ragazzi Team Buffreddy Fammi vedere Che invita Let's go Ragazzi Non trolliamo È la nostra prima partita insieme Sono anche molto emozionato Quante volte hai fatto Pupu a finire a Paola Pupu La devo rifare Due volte Vi voglio Carichi Oggi è il momento Di cominciare A mettere un po' in pratica Di cominciare a tirare Un po' le somme Questo è il momento Che stavate aspettando Quindi Early game giungla Già prendiamo il cazzo Dobbiamo stare attenti Ai club Li divappiamo Giusto Dipende A meno che Abbiamo un pulpri O mid bot Dal match up Mid Dal match up Le due cose Che sono più rilevanti Di base Lo è più forte Può anche invadere Giusto Dipende Se mi vuoi Flippare o meno Come Non ho capito Dipende Se mi vuoi Flippare o meno Ragazzi Concentrati Per favore Caitlyn Va bene Ok Ok Adesso Se prende Morgana Posso andarti Karma Prendiamo Karma Subito Nautilus Nautilus Contro Nautilus Posso giocare Morgana Che non mi piace Né contro Grace Né contro Kate In particolarmente Oppure Dammi un attimo Ti posso giocare Braum Buono Contro tutti Questi tre pick Braum Ezzeria Anche Safe lane Io ti dico Braum Tu che mi dici Tarik Anche Tarik Ti dico Dimmi quello che vuoi Allora Tarik Allora Tarik Va bene Tarik Va bene A me Tarik sta bene E va benissimo Anche con Shyvana Bravo coach Ve la colo Bravo Paolo Ok Adesso possiamo Possiamo bannare Roba per il top laner C'è qualcos'altro Edo che vuoi Perché dobbiamo Dobbiamo prendere top Va blind? Sì E che cosa Vuoi rimette? Lo chiedo io a te Gnar o qualcosa del genere C'è qualcos'altro Che ti dà fastidio? Gnar fa un po' schifo Sì ma Gnar blind Secondo me Si troppo forte Per me è giusto Nelle Gnar Contare che pure Brokhan Prende il cazzo al massimo Un pochino Ma poi Carly Se volete che blind Picco Gnar Per ora dobbiamo Anar Camilla Va bene Va bene Giusta richiesta Altrimenti Edo che cosa Che cosa vorresti Che cosa vorresti Blindare? Eccolo Che ci dà? Un engage Frontline Può essere disengage Anche Può essere Scusami Ma Gnar Yasuo coach Non è fortissimo Yasuo è forte Contro Kaden Grazie I counter Gli ski shot Io qua Sono molto felice Di giocare Yasuo Egnar Offrendo Kapp Oppure anche Malphite Non lo so Vedi tu Malphite Blind Fa davvero schifo Giocava Non posso prendere Yasuo qua Perché se loro Fanno Renekton Parola immagino Secondo me Non lo immaginano Loro L'immagino Hanno bando ZD Yasuo ZD Nel terzo Che giochi Yasuo Comunque Vabbè Fosti loro Lo penserei Mi sono passati Più di Secondo Sbaglio Sì 40 Metto ansia No Lissandra Come è Lissandra Versus Yasuo Buona La merda Molto buona Molto buona Per Lissandra No E il fatto E che io Contro Cioè 1v1 Con Lissandra Cioè Perdo Può essere Aspetta un secondo Aspettate un secondo Fatemi vedere Che cosa piccano Se quella Lissandra È mid Come te la senti Con la Cassio È perfetta Voi Cassio Non siamo un po' Full AP Chi è full AP No Gioca Get me Cassio Perfetto Io a Zir Più che altro Gioca Zir Però Yasuo È fortissimo Non capisco perché Non lo vogliamo Va bene Vuoi Yasuo Ecco Yasuo Sì Cioè Tipo Magari Perché Perché Alissandra Ma Yasuo È fortissimo Anche secondo me Magari Non è il match up Buono mid Ma c'hanno Orn Con il 2 Wind Lo distruggi Cioè Io tipo Esatto Non può mai Ultare Orn Non può Ultare Hanno due Carry Quello Che per voi È più Confio Sì sì No Non so Come sia Per me Qui Contro di Loro Se prendiamo Cassio Va bene comunque Non è un problema Va bene Yasuo Siamo più comfortable Con Yasuo Possiamo giocarlo È un brutto match up Lo sappiamo Ma sappiamo come giocarlo E cosa vogliamo fare Oltretutto Questo dà value Al fatto che Shyvana Ovviamente Farà un fottio di danno Perché allora Non potranno buildare Magic Resister Ale non giocare intorno a me Lasciami proprio da solo Devo solo fare niente Convergiamo ragazzi Mingate dove andate Please Prima loro Hanno fatto un invade Da qua Noi bot Teoricamente Siamo Huff Sottotorre Fino a un certo Buon concerto Possiamo guardare Loro rapper Sarebbe figo Quando poi Lo stream Perché non vedo niente Mi dice che è in pausa Perché hai ridotto A icona È un problema Coach È anche il flittime Vabbè con cui gioca Aftershock Quindi è proprio Oh No che faccio No no non è faccio Se viene così Ma è faccio Per me era faccio Vincete voi Il treviso Sì 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 Vinciamo noi 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 Graves è il focus Graves è il graves Non possono Non possono andare Io sono zonato Io sono zonato Per me siamo andati Sì 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 Fagli la Q Su graves è Su graves è Su graves è Su graves è Ok va bene Il fronte No 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 Ok ok Orda Orda No No Orda No No Un secondi la Q No basta 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 Va bene Posso punire sul farm Preparati a fightale Graves mid Come le scimmie Come le scimmie Katelyn se è possibile Se prendevi l'acqua Avevamo stravinto il trade Fightiamo Per favore fightiamo Come una scimmia Vai avanti L'altro L'altro se è possibile Come una scimmia Fai flash Come una scimmia oxy C'è una scimmia Allora siamo più scimmie di te Bravo Credici di più per favore Questo lo rischiavo tanto Ale 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 Dai varia la bot In tu era al bot Per favore gioca per noi Siamo molto più avanti Sì Stavo dando una vincola Adesso arrivo Dopo quel campo Per favore gira per noi Lupetti Non lo voglio far esettare Frizziamo queste Zoniamoli Siamo molto più forti oxy Questa non dovrebbe poter farmare E' sbagliato che farmi Ti la dico forte Forse facciamo pure 2v3 Con la mia ultimate Adesso sto in verso Non può farmare oxy Questa scimmia Anche se si grabba Lo vinciamo Puoi fare la in Ok Questa è la giusta cosa Bravo Ma non ha la ultima Non ha un buon tp E' come se non lo avesse Ok Io sto presto E' presurando Orden non può fare tp Stiamo giocando per la bot Puoi anche fare E' in come un pazzo Aspetta No ora no Orden non può fare tp Se lo fa e in tg L'altro Ok aspetta a mettere l'eraldo Una placca il tuo herald E poi su Appiamo per la top lane Lissandra è qui Non so se c'è Puoi già metterlo Puoi già metterlo Lasciatemi il carretto Ma questo non so E la T2 No basta basta Non serve che usi di altre abilità Push la T2 Poi svapiamo per la mine Questo non può fermare Orden ha fatto tp Orden ha fatto tp Allora sei ulti Ulti dentro Ulti 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 Lui e poi drago Lui e poi drago Eh drago Siamo sicuri Secondo me è meglio la mid lane E' uno al drago Non tutte le risorse sul drago E' free Tu puoi anche tornare il top lane Secondo me Oppure qualcuno deve bruttare top lane Perdiamo grosso Ciancio vai top Ciancio vai top Siamo giocando per topside vision E per mid ed eraldo Questa è la call Io non stai raggiando il top E poi ci sono per Giusto giusto E io ti consiglio sempre di iniziare i crack Magari mi sbaglio eh Riprendiamo a primo mid Poi infettiamo Sono posto Sei in pericolo Sono posto sono posto Sono posto Guarda questo qui da No toto la pico Abbiamo la prima mid Iassuzo e poi inizia a scalare mid Occhio 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 Inizia a scalare mid Adesso ti infettiamo per il eraldo Qui ci possiamo vincere il game Questo saltando Io sono lontano Sono lontano Va bene va bene va bene qua Va bene qua non c'è ordo Va bene va bene va bene Vinciamo sempre piano piano Vinciamo sempre C'è grace e ho bisogno di un'altra Va bene fai tutto tu Muore Mi sanno dell'atta qua eh Occhio qui occhio qui Ciao shadow Guys la torre non la kill Si prendi la torre La prendo Ho il demolish Niente Muori Arriva Paolo Posso sempre curare Torre è back Eraldo giusto Non gridiamo ragazzi Era molto close Via 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 Noi eravamo sulla stessa barca ragazzi E' al jump Se usi la ultima Le loro ore è grave Siamo giocando per drago Non ci sa Le kill esatto Come di sport Non ci sa Le kill Fate loro venire al drago E prendiamo il fight migliore Chi va Non c'è bisogno Ci siamo tutti Possiamo giocare per le perle L'inferno E riprende la priorità mid Cioè voglio dire Grad buff Scusami Io ci sono eh Ti metto la pink Non dovrebbe essere Sabele Lui non sa Ti faccio Dove ho avuto Fai la E Fai la E Fai la E Fai la E C'è C'è Gribi Ho la ulti In caso Ho la ulti Cdp Dp 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 Non ulti Parliamo per favore Cosa sta succedendo Orle morta Orle morta Orle morta Ok Qual è la prossima colla Abbiamo la real mid Finiamo il game Forse Finiamo il game Con la real mid Forse Non lo mettere subito Però Aspetta la wave Puscia Bravo Che pusha mid Bravo Bravo Grazie Sono dei vabili Senza Sono dei vabili Sì Sono dei vabili Io ho da pozzano Se vai in Yasuo Ti faccio la E Mamma che synergy Ok Prossima Inibitore back Si gioca dal Baron Possiamo rushare il Baron Possiamo rushare il Baron Potrebbe essere la 2-fall Va bene va bene Secondo me è così strano Ci sta Ci sta Ci sta Andiamo 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 Oh Faitiamo top Che dici Faitiamo ora top Facciamo Faitiamo Faiti ingaggiare loro Avevano utili scivata Che inizia a pocare Fate Faiti ingaggiare loro Non do Ok 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 Partiamo L'ultimo a tirare Solo Vai 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 Prendi a torre È gratis Ragazzi Non è gratis È ulti Ah non ce l'hai Voglio chiudere il game Sì 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 Aspettiamo Possiamo chiuderlo Sì sì Prendiamo 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 Voglio Voglio ingaggiare A occhio L'ingage Lissata ti butta in Ulti di Horn Win Allia Suo Tanto non puoi Engaggiare Horn Ulti 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 Ok Vinciamo sempre Vinciamo sempre Vinciamo sempre Vinciamo sempre E ti leggo fuori Da spaiti Ti culo io Ti culo io Edo Ti so curando ancora Non è il mio Che lì È il mio È il mio Che lì È il mio È il mio È il mio Che lì È il mio Porca La tu È morto Aspetta 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 C'è lì Che lì Non è affontati Ok 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 La kill La fontana Mi serve Mi serve La forma Non è stato La mattina Vi imprendi Non bastate Minion Allontanate Dei minion Venite qua Adottatevi Prego Scusatemi Ragazzi Scusatemi Scusatemi Davvero Vai Dietta DG Per me questo game Non va per niente Bene ragazzi Scusatemi Ma Vittoria Ho rovinato Parole dure Parole dure Di un uomo Davvero Stranco Prendete Screenshot Di fine game Mi raccomando Sì Grazie Io me l'ero già Dimenticato Io pure Grazie Io anche Allora Buon game Buon game Non è male Bisogna Dobbiamo fare un po' di accorgimenti Allora Paolo Bravo Molto bene Risistema un attimo i toni Ok Ok Perché Ti ascoltano Ti abbiamo ascoltato Giusto ragazzi Paolo Paolo è sempre stato seguito Ci siamo secondo me Regolati abbastanza bene Come tempistiche di comunicazione Dobbiamo ascoltare un po' di più E non abbiamo bisogno Possiamo abbassare i toni di un attimo Visto che siamo ordinati Il timbro di voce dici Sì Possiamo abbassare il tono di un attimino E Altra cosa C'è assolutamente bisogno Però di chiamare i focus Sì Nessuno parlava di focus nei teamfight L'ho richiamato due volte Questa è la cosa su cui dobbiamo Shadow Oxy Parlate di più nei teamfight E con questa compa è principalmente Shadow Perché gioca a Yasuo Yes Va bene Ragazzi Due minuti Paolo alzati un minutino Vai in bagno Rinfrescati la faccia Ma devo pippare coach Devo prendere cocaina No No Vado a fare in bagno senza pippare Allora un secondo di là Arrivo subito Sì Riprendiamo tutti un attimino di focus E Rifresciamoci E poi partiamo con Con la prossima Che se abbiamo A disposizione Sarà The game E Ian Per il prossimo game Ma questi smartphone Non sono veramente gold Chi lo sa Lo scopriremo Che lo vivendo Tarik Kassin Akali Banneressi Coach Cassadin Gioca jungle Il tizio che ha giocato Cassadin Quindi Dubitiamolo Molto punibile E allora forse davvero C'è uno degli altri account Probabile Allora poi chi cazzo c'è Il 68% di uniretta silver 3 No dai Non facciamo l'errore di sottovotarli Non facciamo l'errore di sottovotarli Dobbiamo giocare come se fossero master Non ci sono Ho il tp però Miss la bot lane Miss la bot lane L'Ulu potrebbe essere lì Quello è che il tp 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 Buono cos'ho Questo muro pure E gridi C'è anche koko C'è anche koko Possiamo frenare Ancora non ci sono Posso chiuderlo Posso chiuderlo Guarda guarda Ho sbagliato Cazzo Tp è molto l'uovo Muore mi sa Ok Arriviamo A voi Sia io che cosa abbiamo il tp Non può tippare Non può tippare kare Ok Senta che potrebbe anche gsarti fino a lì È un po' pazzo sto tizio Ho la w Non posso uccidermi Qua ragazzi Sta facendo l'herald No Forse si Sta facendo l'herald Posso andare a stapparlo Da solo Lo stapparlo Lo stapparlo Io lo posso stapparlo anch'io Arrivo Ok lo possiamo piccare Sì buono Non ha passiva eh Non ci siamo arrivati Lo prendiamo noi Sì Guarda che torna qua Oh Questo dovrebbe morire Buono Salvi Corriamo via Corriamo via Devo correre Perché questo è un flash Buono Eh mi siamo uccide però Mi becca con l'herald Cioè fai l'herald Eh non ci avevo ancora No provo Ma stiamo È strano questo game Sì Eh vado aiuto Io buscio mid e mi muovo Aspetta se non ce l'ho Anno vision Però Ci posso arrivare Andiamo Se lo prendi muori Ok roba vostra Ce la fa la defense Quella quella Di vita Non ce la fai Te lo sei gustato Eh sì A zero Wilt clear Tanto Piccolo Vi raggiungo mid Giriamo Andiamo Non ho abilità Tu puoi fare quello che vuoi Giochiamo per herald In two top tower direi Ha senso Yes Herald è gratuito Posso cercare un flank in mid Giochiamo per mid e bot lane Se prendiamo tre kill mid Guardate qui Ci sono Ti guardo Ti guardo anche Kaisa Alla ultima Sì Ho slow Ok non ci arrivo lì però Ma siamo zack Qui Non è flash E poi ci possiamo anche Cela su Galio Vai Galio Buono Possiamo usare il herald Mid Sì possiamo forse Mid super hard Io push la torre La wilt off O il tp Sì si può fare E papi lo doveva tankare Poi ha preso Nostra un po' Forse è meglio È meglio prima Killarli Aspetta Non è flash Adnac ragazzi Può entrare in Tornato Vabbè Andiamo al Nashor Ora andiamo al Nashor Sì Neraldo lo puoi pietra Ah Bravo Non so Eh dove ho piazzato Dovremmo fare a tempo Per proteggerlo Lo sai che forse Lo potevi mettere qui Era da genio Eh non lo so Ma arriva in tempo Lì purtroppo Che pensavo Ragazzi io direi Di pushare mid lane E ingaggio Ma che sennò C'è No no Possiamo uccidere Ragazzi Ho la ulti Per Ma io o tu Abbiamo in troppo Vabbè Abbiamo in troppo Sì sì Good Voleva flashare What? Stillo in fontana? Oh Oh Vabbè Chiamiamo il game GG In fontana No In fontana Chidiamo Non erano smart Questo momento Ammettono Non erano smart E ho calato Ho calato anche io Molto attenzione Scusate Non riuscivo proprio A È normale Quando c'è Lo screen Secondo me erano Platine Secondo me pure Ero platinum Ero platinum Gold Agri 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 Ragazzi Con ottimi In bagno Sì Siamo in Semifinale No Allora Loro hanno tre giocatori Che giocano Un campione Molto più di altri Che sono Rex, Isindra e Seth Il Seth Forse non è necessario Andare a A toccarlo Se preferite Elevare il Varus Possiamo elevare il Varus Anche se non ha Tanti game di Varus Lui secondo me Non è molto confident Ok Secondo me giocheranno Una POC comp Possiamo giocare anche noi POC sul POC No Non lo so Cioè sì Di POC felice Per quanto riguarda Seth Vogliamo provare A lasciarlo up Abbiamo di meglio da fare O Se lo gioca top Picco Renekton Ed è sempre fine E siamo fine Ok Ok E questo Blitzcrank Fortissimo Conto Seth Lo possono flexare loro Lo possono flexare E io posso giocare Blitz Al se l'ucido Cosa non ti piace Per Blitz Wow Tutti i tank Ma non bandare per me E iniziamo a piccare Zreal Direi Giusto Ok Va bene E poi dire di prendere il jungler C'è zack open No 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 Allora top Vorrei aspettare Io potrei anche giocarlo Renekton Però se lo flexo non è top Ma Renekton non lo flexiamo noi? Io lo flexo Va bene Il met up mail in mid Lo flexo Lo facciamo Renekton Allora Io se è set top Sono super fine È probabile Calista Trash Calista Trash è un problema Potevi giocare Tarik Forze Potevi giocare Tarik contro Calista Trash Ma mi pesa È proprio una line fortissima Sì Ok Trandol Prendiamo Gianna Banniamo Nautilus Ok Aspetta Non so che Trash magari Non so che Loro che ha lista set Trash Rakan Rakan forse non c'è bisogno Ok Prendo Gianna quindi Ma facciamo Puck Io posso prendere Shyvana Non sembra mai Blitz Prendiamo Gianna Blitz C'è sicuro Paolo? No prendiamo Gianna Non prendiamo Blitz qui Vai vai Ok Il jungler sarà Trandol Verosimilmente Ha giocato parecchio Trandol Recentemente Che cosa vuoi giocare Into Trandol? Tragola? Boh Voi Shyvana Non so se lo devo giocare un tank Con l'engager Oppure altro Ci manca un po' l'engager Ah no Ci manca il top laner Ragnar è mi sicuro No anche mid Ragnar è mi sicuro Facciamo Shyvana E andiamo Per questo Shyvana io sono un page Mi diverto Sempre Mi diverto La situazione del poker Poi hanno badato tre pick Al mid laner Andare a Ragnar è un sacco di value Com'è contro Rihanna? No Col Dolan Shield Io manderei retto a mid lane Com'è il match up Credere neftan? Non lo stompo È quello che diceva Che parecchio non vorrà Vuoi un bel match Io posso anche sacrificare Scusate se però Fiora Scusatemi Eh infatti Cioè noi abbiamo Poké disengage Mettiamo Fiori Ciao E non lo viene E allora Fiora sia E se swappano? E come lo tracchiamo Se swappano? Andiamo deep Sulla vision top E mid Tabi Fortissimi Io ho perso doppia armatura Sono tutti a D Trannoriana ragazzi Tutti a D Trannoriana Dopo su me R Hai una doppia exhaust Lola Credo non può fare TP Io c'è una wave enorme qua sotto E qui è da pazzi Arrivando Arrivo Vinci eh Vinci Se puoi flasciare Io faccio Io faccio E' buona Perdonare E noi stiamo scalando Tornato qui Occhio a Kalissa che poteva morire Non ce l'avevo lei Se no c'è andavo in Potrebbe esserci jungle Strano Comunque mid C'ho anche la bilge water Adesso Possiamo proprio piantarla In terra Quello Rian Care top ragazzi Io ho TP Oh no Volevo tenere tramite Lannaccia A volta top Io adesso inizio a stompare 1v1 Credo Siamo più forti noi ragazzi Sì sì Mi sta Kled TP behind di Kled Arrivo 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 Primo top Arrivo Primo top Su Kled Ma che cazzo Sembrava un bug Porco tuo ragazzi Facciamo la torre Ho flashato perfetto Perfetto per me No Sì sì Io sto beccando Sto beccando Non ci sono Non ci sono Stando in base Anche io non ci sono Vabbè 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 Guarda il drago cola Ce la puoi buttare Hanno ancora herald Ricordatevi Attenti i bot Hanno herald Bravissimo Paolo Io prendo mid Puoi tirarla giù Ciancio io ci sono Forse inter Forse inter Hanno herald Bravissimi Bravissimi Non c'è Kled Non c'è Kled Non c'è Kled Mi sa Kled top Mi sa Kled top Kled top Kled top Kled top Sì Possiamo siggare Sì Possiamo forse Treneratore Sì sì Andiamo La torre dubbio che cada Anzi Super off tempo Super off tempo Vale Un'altra plate Ma poi Prendiamo la Questo è buono Se c'è anche lui Non è male Pusciamo la wave Tutti Puoi andare Non ho saltato Arrivo Ho l'ultimate Scudo di Jonas Di me Con calma Siamo massati tutti Questi Anche secondo me Io sto da sopra Questo è un po' Vai vai Ragazzi Devo morire tutti 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 Creda al tp Pure io Quella ha flashato Flasho in Io ci sono Potrebbe essere troppo deep Ma perché non ci prendiamo La torre top E basta Arrivare Occhio Crede tp Alla ulti Crede Crede alla ulti Potre pusciare La wave guys Non ci sale qua Pensa al quale Voglio tirare via La wave Usiamo la wave Facciamo torre Non possono contestarlo Chi tanca Più Scudo su di me Quando vado in Io posso taccare Io posso taccare Io posso taccare Torre torre E li uccidiamo Torre e li uccidiamo Via Uccidetevi Meno male Edo che parli Fight Cazzo Sembra La saga Del silenzio Seconda torre Possiamo farla Sì Possiamo farla No Dai Chi se ne prega Ritardo Ok Ci sto Più che altro Per me ragazzi C'è da resettare Sti cazzi Gli obiettivi Ragionare Ragionare Sette Ragionare Ti piace Il drago Noi Vi faccio Di Poi Poi Vedere Sono noti Picletta La ultima Troca Fala Dalla base Attenti a questa cosa Fatti vedere Fatti vedere Mi Deci Ciancio Vai qua Vai qua Vai qua Fai anche Un po Lo stupido Così Magari Non pensano A Botta Non fa Ok Basta Basta Vai pure Via Vai pure Via Perfetto È free È free Bravo Ok Ciancio Vai qua Se fight No Recolliamo Via 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 Continua A mettere Precio Su Side Line Occhio L'engage Meeting Che potrebbe Arrivare Con Sette Io Redemption Pure In caso La Mid Cade La Mid Cade E poi Parlate Parlate Situazione 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 Continua 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 Vista Un Ora Do Chi Stai Anche Io E Inibitor E Inibitor Questo Ma Forza Era Mese Rimanevi Stell Non Penso Perché Scola Vi Incaggiano Arrivo Questo E Morto È In Pure No Slow Basta 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 Redemption Piano 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 Posso spingere Via Basta 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 Orianna No Samson Ultimate Basta 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 Io ho visto L'ultimo Che Adarrivalmi addosso Dopo 5 Secondi L'aveva Fatta Sette ha Flashato Trattola Flashato Non ho visto Altro Non facciamoci Incaggiare Occhio Sono Al Pino Da Voi Arrivano Da Voi Pronto Disengaggia Ti Ard Ma Non Vogliamo Fai Tare Ragazzi Cioè Non è Dei Fatale Trovate Vi Andate Vi Andate Vi Lasciatelo Lasciatelo Ragazzi Ma Non vogliamo Proprio Fai Tare Eh Ma Non C'è Vedo Male Sorry Mettete Comunque Pressione Anche Se Continua Stellone Adatto Tutti Ma Vinciamo 4 Vincini Questo Magari E Gridi Però Ulti Tra Non Vinciamo Vinciamo Non Sotto L'Utili Credo Non Posso L'ingaggiarmi Io Vinco Anche Su Side 1 V1 Ok C'è Credo Da me Sono Due Da me Sono Tutti Là Non so Perché Basta 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 Ora Resettiamo Ora Resettiamo Ora Resettiamo Possiamo Colcina Se potete Andate 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 Sto Arrivando Sto Arrivando Fai Chiamo Calista 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 Poi Orianna 7 7 7 7 7 7 7 8 Tabi Bastardi 8 8 Scusate Per le morti Early game Ragazzi Ho disespetta Non so No Problema Ma ho perso Anche un sacco Il focus Mi dovevi davvero Trocare Di add All Cazzo Damn Chi Hanno vinto Quelli Contro Che Giochiamo Non hanno perso Non è possibile Che abbiano perso No Hanno vinto Contro degli altri Egeziani Ionic Questi sono Giocatori Che han giocato Tutti i competitive Finalmente Almeno Un game Decent Scusate Se dovremmo Essere contenti Facciamoci prendere Sentimentalismo Devo andare A fare la pipì Abbiamo sbagliato Ma perché Fra Sempre Top farm Mannaggia La puttana Perché Se Chiamano Botti Quattro Sta facendo Il gromp Secondo te Perché Top farm Ma per il fatto Che si arriva In tempo Comunque Ragazzi Proviamo a distrarli I love pizza I'm italian Sicuramente Rispondi Do you like Brewster E io ti rispondo No Is gay E perdo tutto Il focus Del mondo Fidati Sì Giustamente Mi viene ricordato Dalla regia Giustamente Di dirvi Che il campionato Egiziano I play egiziani Tecnicamente Sono palle Di cannone Si lanceranno Come una catapulta Banniamo Che lato sia Siamo blu noi qua No siamo red Ok Abbannato pantheon Perfetto Banniamo trash Banniamo Banna set ora Sì Deve tenere fermo Deve tenere un pick buono Per Maw Vabbè Allora Qui le scelte sono O banniamo Rek'Sai Che è un jungler Che ci dà fastidio Sì Io lo bannerei Anch'io Anch'io Della stessa idea Non me lo richiedere Va bene Ho intenzione di giocare Contro quello Che va in giro Rumble Ok Quindi engage Variante team comp Va top o mid O siamo sicuri che va top Dovrebbe andare mid Questo Ok 49% mid Ok Qualche picco io Zed Da pazzi No Zed in to Rumble No non si gioca Ok Ezreal Ezreal Sì Onesto Io se gioco un melee Contro Rumble Mi trovo bene con Mordekaiser E Renekton Mi trova bannato Ci pensiamo dopo Ah ok Io lo prenderei adesso Vabbè C'è una cosa che vogliamo giocare Contro Rumble In any case Sia top che mid No I miei picripe D'oggi altri due Che fanno Sì potuto la jungle Secondo me Morde anche un bel flex Ma se lo giochi Vanets Morde Lo potrei giocare Però non Se Coach Coach Vai morde Vai morde Lo facciamo seguire Lo vuoi giocare Tu mid Sì 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 In TURAMBALL Io potrei giocarlo Comunque Ok Il mio blitz è caldo Però mi devi dire Mamma mia Mamma mia Dico blitz Forte contro morde Ah Ti posso prendere Blitz Ok Questo chiamano Questo Di chiamare Blitz Sì È buono anche in TURAMBALL No Sì Ok Banno Allora Andiamo avanti A bannare Jungle E Lice E Lice Sì Una cosa Se bannano Zed Forse pensano In morde sia top Quindi può essere Che loro Rumble Lo mettessero top Di base Assolutamente sì Pensano che sia Rumble E che morde sia top Hai guardato gli account Ti sei degnato Di aprire gli OPGG Dei giocatori Contro cui stiamo giocando No Eh sì Ah No Perfetto No Che altro mi dai Che altro mi dai Ale Oh Lissin Xenza vai Cosa volete Pop Secondo me Con Lissin Gli abbiamo tolto Anche i campioni Ma guarda Lissin No Mamma mia Che sei bravo Sei Qualcuno Gli egiziani Mamma mia Sembra Posso dire Rommel La dell'Elemen Rommel Era la personificazione Stessa dell'incursione Corazzata Capace di sorprendere E disorientare I nemici Qualunque fosse Il loro numero Era un uomo Capace di trasformare Una sconfitta Senza speranze In un audace Contrattacco Ed o parlo Parlo un attimo Per favore Sto pensando Sto pensando Allora Ragniar Potrebbe andare bene Camille Potrebbe andare bene Loro corrono dritti Dentro di noi Dritti Nella nostra Contra Gnar 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 Yes Bene Whoever Anche la persona Che ha Yumi addosso Esatto Lo so Per dire pure io E niente Ma questa sinergia Esplode Però Ci serve un po' Nel supporto Del jungle Voglio Resettare Non giocare Intorno Ma come sempre Ale Questo Ma ciao Orn Mid Lo vedete Bravissimo Dove Di Dove Fa le flash Q Dai Dai Tipi 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 Su chi Vuoi Su chi Vuoi Tu Non Nessun grab Se vuoi Ma non sto grabando Sì 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 Piano 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 Io ho il flash In caso lo flash Ok L'ho attaccata Non può entrare L'ho attaccata Non può entrare No Trope pure Oh Comuncano una bad communication Cioè Cioè Poi stai zitto per favore Ok Quando facciamo in sé possiamo vincere però si è un po basso di hp se quella lexos non li uccidiamo Ma in realtà voglio prendere sta wave se riesco e comprare goccia che se no non la stacco mai e mi serve troppo Vimbracciare wave Bene Ah ma non c'è Orde potrebbe essere la tele Mi sto dalla wave Attento shadow perché lo sappiamo dove è il jungle Vieni mid Vieni mid Vieni mid Vieni mid Vieni mid Versi che sono Ok orde è come Bravo shadow Trollando il last C'è il Prove Ah se lo kill lo sto trollando No 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 Guys guys focus Forse c'è avuto un po' il cazzetto All off mid All off mid Secondo me è giocata bene invece Non c'è un po' il cazzetto Ah ok Se vieni tu posso rimanere forse Sto arrivando paro Prendi le un mini un mini Mi sembra un mini Bravo Pulito Questo eraldo si swappa che dite Dopo questo momento swappiamo Possiamo pushare e swappare No 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 E' guarda fatto pure il fast Regold Swappo Un po' di fast Ho anche l'eward Ci sono Arriviamo Abbiamo E' morto Morde giusto Decidiamo cosa fare Secondo me possiamo uscire E' morto giusto Ovviamente che hanno anche C'è una struttura Non ho tibia Non ho tibia Non ho tibia Non ho tibia Va via Va via Però passiamo Non ho tibia Il cazzo Voglio mi ultimo Voglio mi ulti Vencela Ma se Lasciatelo Prendo le play Sto prendo le play Torn e perde tantissimo Prendono a mid Ma se facciamo top Nel frattempo No Una le ripende Chiamate se avete bisogno di me che mi muovo a piedi Ha stato da ulti Siamo 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 Tutto pulito Tutto pulito Ho il mega Ho il mega Poi puoi già jumpar Io sto andando mid Ok ora si Hai il flash Io si Vai 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 via Paolo vai via Bravo bravo Paolo Molto bravo All off top Quattro secondi faccio il TP Anzi no facciamo drake è vero L'ho lasciato l'ho lasciato la facciamo drago Bravo 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 Uno per uno good good Bel 3 ulti olaf Credo abbia anche flashato Non tutti al drago è gratis Vieni Sì Ha ragione Ragione Mite made made Hai bisogno di la mano attuale No Ok Forse che anche la ulti Troppo alto il CD Vieni verso l'alto verso l'alto Arrivo con l'ultimate Arrivo C'è il tp Che va pure io Arrivo pure io Posso fare il TP Posso fare il TP Anch'io Com'era fanno Go 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 Forse troppo ierle Non sui range con la R ancora Ci arrivo vicino con la E Horn Ho trollato Ma è killabile? No no Vai via Vabbè Proprio no E dobbiamo prendere la bot Pushiamo questa wave Sì 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 Help help Ok Ho trollato ragazzo No problem C'è la faccia Sì 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 Si può Ok Sono ancora mid Loro Sono ancora mid Non ha la spell Per dodgiarti grab Arriva Arriva Non ho abbastanza danni Non ho abbastanza danni Tanco tanco io Ale Tanco io Non tanco più Non muore forzi Mamma mia Agni di bussica Silver 2 Cazzo Focus Sky Focus Ho la ferra top Focus Ci sono ci sono Ci sono Ma vai via Maiale Chi lo devi pure dire no Non hai il tp E ogni c'è la Ok Ok Devi camminare Secondo me devi camminare Va bene Va bene Arrivo Un sappone Jump Un sappone Jump Top è morto 8 Abbiamo No Abbiamo Bravo Bravo Prendi tempo Prendi tempo A rivale Se riesci ad andare Verso qua A rivale Va benissimo È super good Bravo Torre top Torre top Tenete la mid Tenete la mid Io la tengo Io la tengo Io E intanto L'eraldo è gratis L'eraldo è gratis E giocare pure per drago Lasciando l'eraldo Che dite? No no Eraldo Forse No facciamo Se vanno Trago mettiamo Eraldo top Siamo anche dati due Giusto Giusto Sì Sartiamo Sartiamo Non posso difendere Mid La prendono Forse ce la fa Difesa 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 Bella 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 Io la posso dire dritto Secondo me Sì Ragazzi In dieci Sì Sì Non omega Questa sta intanto Eh sì 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 Vinciamo Disingaggiate Vinciamo Olaf 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 Uniscente con l'Olaf Buono Non hanno niente Non hanno niente Posso prendere Rumble No scusa Scusa Ci sono Ole Basta Basta Via 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 La media Non si può prendere Vero Sì Dopo il drago O forse lo fa il solo Che dici Vai a fare il drago Vai a fare il drago Lo difendo io Vai a fare il drago Deve schiantare sulla seconda Pusha La Wester Riesce No C'è lei 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 Forse l'abbiamo Un po' sprecato E che erano morti In tre Pensavo Tipo Super Ma sicuramente Ha spiegato Per l'Ati Una Difficile A prendere Allora ragazzi A occhio Se è l'unico Che può morire In questo momento Guarda Guarda Si sono in tre Oh Ti prego Inta Bastardo Ma muore questo Muore questo Muore questo Oh Non stare là Però Vieni da te Vieni Versi qua Grabo uno Anche io Anche io Mi sa che non muore E invece Li posso prendere Posso prendere Posso prendere E l'altro E baron Ma uno mid Troppo gridi Troppo gridi Il grob Il grob Se non lo prendi Mi offendo Uccido Rumble Io uccido Rumble Rumble non lasciamo Rumble non lasciamo Mid è caduta La ruota Ma se Ti attacco io Ti attacco io Mamma Vabbè Sono in tilt E abusiamo Psicologicamente Questa è free Inibitor Rimani mid Quella wave Deve avere più pressione Di un tacco Su un pisello Capito Deve essere pushata Vain forse Inta È sempre speciale Omega Omega È zona È zona È solo la torre Occhio Stai tancando Occhio pure tu Stai tancando Io prendo mid Io arrivo mid A pushare Bot ci metto un'ora Sì ha ragione Ragione Siamo così Rumble ancora morto Non omega guys Non omega Devo rifarmarlo Mi cade Rumble ancora morto E io direi Inibitore Vincere il game 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 Fatevi ingaggiare Disingaggiamo Ringaggiamo Vincere 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 Rumble una summoner Va bene Scusa Mi sono fortissimo Tu non ha niente Ne voglio un altro Ah che in base Questo è un pass Ah mi ha cambiato il TDA Beito Beito Ok Forse muore Ha il kick Non c'è l'ultimo Ragazzi è importante Non ce l'ho Prendilo Prendilo No Vado la pink Il TDA Oh madonna No non ce la faremo mai Ragazzi E' disrespect Il game Che babbo di nicë Falsi No è vero Sì sì Ragazzi Avevo la sindrome di Pay Ah ho fatto tremila Ho fatto provare i denVI Extremila Tremila danni l'ultimo team fight l'ho vista che stavano attaccando o è sgavata bella partita lasciato bravo hai fermato un po poco però bella partita perché ha fermato fragola è vero allora ai 207 milioni sull'isim e lo ha giocato anche l'ultimo game la finale toglie delle giocate tanto giocate questa formazione sì 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 jacob ti offende dei tifani se lo so puntari devi essere cazzo non che sei nero ragazzi voglio tesi è come le energie per i prossimi due game o tre se va male non va male se va male 2 se va bene 2 che vuol dire bravo se ancora come coach è così adesso improvvisamente posso dire loro penso i ragazzi per avermi scelto per questo squadra prego ai change account fast non si può fare questa roba non si può bro no problem perché i swap to invitami a reinvitami invito non te c'ho in free visto perché non mai ha dato guarda quale dark paolo asana ma mi pagano troppo poco scusami scusami mi pagano troppo poco è una buona idea ma è quello che vogliamo fare cioè oxy non è troppo più forte con azri al poi fai tu o si è ancora chi fa giocare sull'estria facciamo parlare ragazzo per favore per me indifferente quello che fitta meglio nel team lo prendo allora varse è meglio però oxy secondo me alle mani it's real non insisto oltre questo prenderò pure nautilus adesso posso giocare nautilus sento vario ok quello che noi possiamo fare è continuare il quinto pic sulla nostra via e fare continuare con il nostro poke kite back tipo fare shivana bravo guadagnerei anch'io tempo facciamo shivana e poi pensiamo che cos'altro vogliamo prendere qualcosa no no non facciamo preso ho bisogno di pensare va bene va bene allora abbiamo sempre la possibilità di fare dei flex abbiamo renecone e morde giusto come renecone contro di loro come morde 2 dai dammi dammi bro dai va bene dammi bro che al disengage alla fine è una delle cose che possiamo fare dammi bravo aiutano forte quelli vorrei adesso comunque sì 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 comunque va bene quello che vogliamo fare è kaitare back the fine allora pensatelo un attimo è buona in tunico non ho la minima idea andiamo a vedere allora per per la mid lane dobbiamo prendere un blind io pensavo una cosa tipo azir così primo long range va bene quindi prendimelo qua va bene anche se viene silenziato la merda è troppo lontano e poi allora gnarla pensando cosa fare contro nico nico zone control si farebbe comodo avere del range comunque abbiamo già un po di manipolazione io continuo per jayce di eddy che troppo forte non so com'è il match up in tunico ma è full poc ci può stare la senti edo se io lo sento ma non hai mai giocato una lingua tronico al primo è quello non ho mai giocato potrebbe essere bestia e non lo so spiegata che lavoro non lo so posso dire attenzione a cui vale devi venire qui ale ragazzi stiamo parlando troppo abbiamo anche la verità io la ulti da team fightare occhio c'è maokai dobbiamo fai dare ci sono non ci sono dobbiamo fai dare una flash poca ma che stessa per cresce bocca e senza flash di questo poca tutto questo flash può soltare lo magari può soltarlo tardo parte 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 avvicinati avvicinati non ce l'avamo ragazzi non ce l'avevo sul fight non ho semplicemente disingaggiato va bene non eravamo pronti sul fight non fa niente potrebbe ancora vincere più va e più passa il tempo più può vincere di pop ok ce li ha marati non fa niente forse era era troppo e non fa niente non ci pensiamo sono due botte sono due botte non posso contestare questo non è verabile sono tre botte sono tre botte c'è anche grace guys c'è tre botte quella lì deve abilissima non può star lì non può salta da me l'altro due mid due mid no no era meglio salvare ale c'è il serial c'è il serial eh c'è l'ho i danni eh ok senza flash ok qui senza flash andiamo al pianale ci potete dare una mano ci potete dare una mano qui io posso provare ad arrivare a piedi ma sto ah fuck back 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 due secondi alla e aiutatemi non c'era però possiamo vabbè it's fine uno per uno due per uno eh se ti è il vicino arrivo sto arrivando sto arrivando sto arrivando sto arrivando all'ulti all'ulti paolo attento che dai va sto arrivando ale ciao ulti se volete qui è un paio d'abili eh sono paio d'abili questi sono paio d'abili questi bello se entra dentro sto arrivando occhio è frenola occhio no speravo alcun po' di bloccasso onestamente ulti ulti sono solo hb hand che cura eh nasce mi distruggono con l'ealing mi distruggono con l'ealing mi distruggono con l'ealing mi dici che sarà che avviva lì è difficile eh ah ah sto vedando se fa la aim muore vengo da te vieni bella però messo con l'angolo sbagliato dove deve andare qua capito se niente bro saltarlo e da pazzi secondo me saltare il baronore da pazzi no 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 però se lo sanno non facciamo niente perdiamo c'è anche lo scatto allora riusciamo a prendere stanno partendo vogliamo partire guarda 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 non può seguire che oggi non sono ancora una volta in casa vediamo per il mid di vediamo per il mid di kann arrivo è di rileo per shot Adesso è di piccolo, cioè già era difficilotto, vediamo un po' Disengaggiamo se possibile, quello ultrà, eh, quello ultrà Vabbè vieni, ci si vuole perdere Mamma mia, botto mi hanno passato il cazzo tra le orecchie Ok, va bene, whatever ragazzi, non fa niente, dovevamo vederli e li abbiamo visti Questi sono, c'è una ragione, ci sono arrivati fino alla finale, trovando anche buoni team Assolutamente, ci sono i più early game potential Eravamo troppo indietro per vincere, è bottenzi, ci spaccano il culo Non ha lo smite lì, eh Non sia punibile, mi dà, eh Guarda che push c'ha Ok Vai, devo giocare back perchè c'è l'italia in zona Eppure Nautilus Ha trollato, ha trollato, ha trollato Mettiamo Nautilus Tagliando una smite, tagliando una smite Io non ho l'ulti, mi manca un minion a l'ulti Tagliando una smite, tagliando una smite Prendi l'expe da Nautilus Dai expo Dovevo troppare l'acro del drake Vai via shadow, vai via Ah niente Non sapevo come era la situa fuori Non dovevo flash Non so se a me c'erano poche info Non sapevo che IASA non fosse al 6 Che male ragazze fosse al 6 Eh ha flashato pure l'italia Adesso c'ha il 6 Fulgato è top Ci riprovo bot lane, ci riprovo Passo dalla nostra pink Vi vedete bot? Sì Ho l'ultimator flash Focus, chi è che non ha flash? Chiamato un focus E poi a Zerial Io vado sull'alto Io ho bisogno di prendere qualcosa che ho perso tutto Se magari dovete parlare in questi fight Questo vuole flashare via Nessuno ha detto niente Eh non sapevo se non sarebbe arrivato il tuo auto Vabbè worth 2 kill C'ho l'ulti qui? Questa la one shotiamo? Clean, clean, arrivo, arrivo Sono qui Sono qui Sono qui Arrivo anch'io Avvicinati a me fragolas E poi Ho il red Eh w W Ci posso curare Ti posso curare per un'ora e mezzo Ma non lo so Ti prego Mentre Eds è bott Se sbappiamo noi adesso Strutturca da qua Strutturca da qua Strutturca anch'io Nè Non ci credo Eh Non posso fare meglio Ti prego Tancco la torre Tancco la torre Sto tankando io Eraldo o no base l'eraldo no via 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 no via via posso prendere il wave top ed non guarda la wave spesa scalia eh ma se mori te vi salvate da me sta bene ragazzi devo difendere bot da urgot che è urgot non mi sta facendo niente c'è un tipo di stop stop ecco fino occhio al fear mi avvicino Ale mi avvicino Ale se riesce vabbè israel flash? no no non lo so stalla ulti anche morte morte sta attaccando bravissimi bravissimi Paolo c'è Talia dietro vinciamo a casa di lei vinciamo a casa di lei arrivo su Ezreal no le 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 va bene abbiamo preso un po' di cose bella roba 1 e 40 drago abbiamo win wall abbiamo win wall abbiamo win wall seguito il win wall ho il tp ho il tp pronto eh e quindi per me ci gira per me ci gira su questo ancora ulti va bene dall'altro lato dall'altro lato guarda è meglio è meglio con l'ulti morte 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 in casa guarda via 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 ragazzi si 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 fuggito non dicevamo mai più no no e da fettare sono off tempo della meta lasciarli beccare fare baron forse si no ma non becca tutti insieme impossibile devi fettare va bene vai 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 andiamo dentro c'è talia sul side eh mordheiser mi ha fallato vi andiamo a disganciare talia se muore talia siamo felici eh ho la W guarda talia con la quale dell'occhio ho la W W mordheiser non flash no ulti mordheiser non flash che bot che sono no sono un bot ma guarda il cappino no nooo non è giù avevo ancora flash mannaggia mordheiser qui non mi faceva passare mi ha fatto flash ulti era giusto forzare il fight la ragazzo ma abbiamo giurto male ero off tempo ero fuori posizione no 3 yard ha un altro che vogliono fare le kill vabbè io salvo chi dia pure io pure io è bello mandare gli ulti al macello esatto esatto provateci voi sono comunque felice anche se la 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 come posso dire la parabola è stata triste mi sembra un po' i g2 in finale però sono comunque contento no no raga e guardate che io non mi aspettavo neanche di arrivare in finale onestamente adesso che abbiamo finito secondo me essere arrivati in finale è stato molto good questo team evidentemente gioca molto più a lol di team di noi si gioca molto più a lol probabilmente fra me non aveva noia su millor no 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 mamma mia no no in ogni caso siamo arrivati secondi secondo posto è un bel risultato no ragazzi 100 euro ma sta scherzando 100 euro 100 euro gli abbiamo negati dei negati che con 100 euro magari ci campavo per due settimane dovete essere felici di questo ragazzi ma infatti è 50 metri in quanta seco 100 euro sono 20 euro a testa per le cinque teste dico che io vorrei solo dire una cosa non sono top farm abbiamo perso un game no 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 torrò ai 207 min sul tercino perché il patino era sempre efficiente in correlazione al pan Obama ma non esiste non poi formare così tanti in di principalmente la pandemia le ce la passiva con gli cabo è vero è nel doppio è nel doppio è nella scatola possiamo giocare quindi la bot lane baron 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 il bar sti cazzi 5 million non ce l'ho più niente baron baron va bene drago è back drago è back drago è back io ho visto l'ultimo che è da arrivare a me addosso dopo 5 secondi vado io vado io vale tranquilli caspita t'ho scavato che veloce arlea chino tanto la vuoi vado a farle vado a vado a vado a vado a arrivo 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 ma stai prendendo 20 secondi per fare un gromp guarda che ma fatti curare vai bot fatti curare guarda guarda però come bellino 2 di 2 in un re di paolo lo chiudo non ho abbastanza danni non ho abbastanza danni tanco tanco io tanco io non tanco più non muore bravissimo mamma mia agnelli di bustica silver 2 cazzo focus oloffer a top focus ci sono ci sono ma vai via maiole si ma oloffer dall'altra parte quella way mid ragione io chi di alo si infatti io vado direto al red adesso secondo me top farm ti ping rimino guarda non ho tassato niente se vuoi un problema il farmate poco in questo game ma farmate io mi connesso io non ho passato per cui c'ho il vodo che non ho visto un minion in lane non so mi sembra un bambino grasso frago che vuole il gelato e la mamma la guarda male mi trattate così vabbè c'è 200 milioni con lì si possiamo andare possiamo andare posso fare il gromp il gromp ale se non lo prendi mi offendo il baron come scusa per fightare ok puliamo le ward mettiamo gli anzi che abbiamo un po' un po' Grazie a tutti.